ciao bimbi come state spero bene sono qui oggi per raccontarvi una storia una storia che a scuola ci piace molto che la leggiamo sempre volentieri provate a indovinare sì proprio quella reginal e tina siamo in un libro prima di iniziare la lettura però ci dobbiamo preparare aprendo bene le orecchie spalancando gli occhi e accendendo la fantasia reginal e tina un libro scritto da ma williams edizioni il castoro tina tina guarda sì reginal qualcuno qualcuno ci sta guardando tina sì è vero qualcuno ci sta guardando tina chi ci sta guardando chi dimmi è forse un mostro no è un bambino anzi tanti bambini guarda uno due tre quattro cinque 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 in questo momento ci stanno leggendo e come eh sì leggono le parole scritte sulle nuvolette un po aiutate dalla maestra che sta tenendo in sospensione il libro e noi noi infatti siamo in un libro siamo in un libro siamo in un libro è sicura mattina troppo forte troppo forte siamo in un libro siamo in un libro siamo in un libro ci stanno leggendo wow ci stanno leggendo si senti reginal senti 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 ho un'idea ho un'idea senti ora facciamo dire una parola ai bambini ad ogni bambino facciamo dire la stessa parola e ognuno la dirà da casa sua fai dire una parola ai bambini eh sì se i bambini leggono a voce alta e dicono una parola wow tino che bell'idea che idea buffo pronti siete pronti raginal pronto sì la parola è banana sì banana wow tino troppo forte hai sentito tino il bambino l'ha detto di nuovo ho detto ancora banana i bambini l'hanno detto ancora oh che ride banana banana che buffo dina che buffo che buffo buffissimo vuoi provare reginal reginal vuoi provare anche tu prima che prima che il libro finisca eh dimmi finisce? il libro finisce? no eh sì reginal i libri finiscono e quando finisce questo libro dimmelo beh aspetta aspetta un momentino adesso guardo eh sì finisce pagina cinquantasette a pagina cinquantasette ma siamo già a pagina quarantasei eh eh adesso guarda lì guarda lì siamo a pagina quarantasette questo libro va troppo veloce troppo ho ancora ho ancora tante parole tante storie da demanare io io voglio solo essere letto tina voglio solo essere letto senti senti reginal mi è appena venuta un'idea bella idea tina bella idea bambini bambine ciao noi volevamo chiedervi se magari non dico proprio oggi oggi ma se un altro giorno ci potete leggere sì perché noi siamo sempre qui siamo qui e che vi aspettiamo spero che funzioni anche io fine della storia spero vi sia piaciuto e vi siete divertiti io vi mando un bacio enorme e vi dico andrà tutto bene bimbi tranquilli ciao alla prossima ciao ciao ciao